Ciao, sono Alessandra, Delivery Manager di Oliver James Professionals, la divisione che si occupa di temporary staffing. OJP cerca il percorso ideale per uno sviluppo di carriera. Supportiamo costantemente i nostri candidati sia nel processo di selezione che durante la missione. Il nostro team è composto da persone molto diverse tra di loro. La diversità è il nostro punto di forza. Ognuno di noi mette a disposizione dell'altro le proprie conoscenze al fine di raggiungere insieme e con grande collaborazione l'obiettivo finale. Il team Delivery si occupa di trovare un incontro tra le richieste dei clienti e le aspettative dei candidati, creando storie di successo. Il punto di forza di OJP è quello di lavorare in un ambiente sereno, stimolante e che ti permette ogni giorno di esprimere al meglio il tuo potenziale. La nostra divisione è fortemente incentrata sulla gestione del personale e questo ti permetterà di apprendere molte nozioni della sfera HR. Per noi lavorare in team è fondamentale perché le competenze di tutti portano OJP al successo, condividiamo informazioni, conoscenze e best practice in un flusso di informazioni continuo. Non amo parlare di me come manager ma come membro del team. Tutto ciò che cerco di fare è offrire una formazione continua, le competenze necessarie per lavorare nel nostro settore, flessibilità di pensiero, inclusione e celebrazione di tutti i successi. In OJP avrai la possibilità di intraprendere un percorso di carriera in un ambiente dinamico, giovane e pieno di sfide quotidiane che ti permetteranno di diventare un professionista nel mondo delle risorse umane. Cogli questa opportunità ed entri a far parte della nostra realtà. a far parte della nostra realtà. a far parte della nostra realtà. Grazie.